notizie amiche ed amici di Reteotto Sport una cordiale buona serata da Lorenzo Valeriani e benvenuti bentornati ad eccellenza on air la rubrica del sabato sera che va a conoscere un po' lo stato di forma delle squadre di eccellenza in un campionato che regala domenica domenica davvero tantissime emozioni domani un altro incrocio importante come lo sono stati ovviamente e naturalmente e quelli eh della domenica passata nel mezzo eh in questo mercoledì c'è stato il pareggio nel recupero tra Penne e San Buceto due a due il finale con la squadra di eh Donato Ronci eh addirittura in doppio vantaggio poi eh recuperata grazie alla eh magia di Cacciatore che attorno agli ultimi minuti di questo match eh ha messo in eh parità eh l'incontro un pari che forse eh soddisfa più Ronci da un lato perché mantiene la le distanze proprio dalla squadra di Fabio Iodice però Ronci che ha da recriminare per appunto il doppio vantaggio eh procurato si poi sprecato negli ultimi secondi dall'altra parte il eh Penne che doveva eh assolutamente eh cercare i eh tre punti non c'è eh riuscita la squadra eh bianco-rossa del presidente Marrone però credo possa eh insomma così eh esprimere un gran bel sorriso soprattutto per come eh si erano messe le cose appunto con il doppio vantaggio della squadra viola eh di eh Donato Ronci di questo eh di tanto altro parleremo stasera con i miei ospiti li vado immediatamente a salutare un bentornato e un eh caloroso abbraccio a mister Damiano Cianfagna che tra l'altro proprio mercoledì durante il eh recupero ho visto sulle tribune di Penne ciao mister come stai? Buonasera ciao Lorenzo bene bene dai eh sì ci siamo ci siamo visti mercoledì al campo e abbiamo assistito sicuramente una una bella partita. Che sensazioni hai avuto? Non so se condividi l'analisi breve che ho fatto no? Con questo Sambuceto che ad inizio match secondo me eh poteva tranquillamente tornare a casa eh con un pari no? Sulla carta poi però per come si sono messe le cose Ronci visibilmente nervoso al pari di Odice e di tanti altri forse eh può recriminare qualche cosa soprattutto appunto per il doppio vantaggio eh generato a nel primo tempo con tante altre occasioni addirittura per rimpinguare il punteggio. Ma sì Lorenzo la la classica partita dai dai due volti nella nella quale magari nel Sambuceto il Sambuceto si è fatto preferire nella prima frazione di gioco e poi è venuto fuori anche il carattere del pene oltre che eh la 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 forza perché comunque parliamo di due squadre si invischiate e in una lotta salvezza ma dalle qualità eh tecniche eh che poco hanno a che vedere con quella posizione di classifica quindi tutto sommato un pareggio giusto e quando i pareggi sono giusti recriminano tutti. Pareggio eh mister che tranquillizza soprattutto quelle che sono leggermente più avanti no? Lo spoltore eh mi viene in mente anche eh ovviamente il caso al bordino che non vede distanziarsi eh più di tanto le dirette le dirette concorrenti e credo che abbia accolto con piacere il pari anche anche la stessa Renato Curi angolana quindi se andiamo a rivedere la classifica e nel frattempo saluto l'avvocato Antonio Paoluzzi ciao Antonio avvocato su tutto ma principalmente scopritore di di talenti e amante di questa di questa categoria direi ciao Antonio buonasera e bentornato ciao buonasera a tutti buonasera a e buonasera al mister allora faccio rivedere la classifica eccola qui dopo il turno recuperato proprio eh mercoledì al Colangelo di Penne insomma dicevo eh Casalbordino che vede il Penne a eh due punti a quota eh trentatré lo spoltore eh rimane tra virgolette eh in zona eh play out con trentacinque punti però ecco in questo caso il Penne ha bruciato l'occasione di agganciare proprio la formazione di di Camillo Langolana a quota trentasette insieme al San Buceto salito di un punto rispetto alla giornata di domenica quindi mister insomma anche Casalbordino ma io ci metterei anche Bagigalupo che tra l'altro ieri lo voglio ricordare ha cambiato per l'ennesima volta allenatore è tornato Borrelli eh è stato mandato a casa e sonerato Antonacci che in poche giornate non è riuscito a dare evidentemente per la società quello scossone necessario per eh accelerare sulle dirette inseguitrici. Dicevo Damiano e poi naturalmente eh vado a sentire anche Antonio eh un pari che forse abbassa anche la quota salvezza anche anzi senza senza il forse e fa forse respirare qui eh lo stesso San Buceto Langolana ma soprattutto direi lo spoltore Damiano. Eh esatto esatto Lorenzo è proprio proprio questo cioè quando c'è un pareggio tra due contendenti due eh rivali dirette eh automaticamente poi eh quelle che si avvantaggiano sono quelle che che seguono quindi sicuramente la la Bagigalupo anche a avrà l'opportunità di di accorciare soprattutto in virtù poi di di quel gap di punti che potrebbe privarli della possibilità di disputare i play out sarà sicuramente un finale molto avvincente. Antonio ti faccio entrare in questa discussione e chiedendo anche a te ovviamente un parere non solo su questo su questo pareggio ma eh cosa potrà generare appunto il due a due tra penne e e San Buceto è vero che la tranquillità eh di alcune squadre eh ormai è certificata è ufficiale però il tutto è collegato purtroppo alla situazione eh relativa alla classifica della serie D del Girone F dove il Castelnuovo su tutti con il Nereto che ormai possiamo giudicare spacciato ma eh secondo me anche al Chieti mancano quei due barra tre punticini per dormire i sonni tranquilli ma sicuramente come dicevi tu questo pareggio come diceva anche il mister pareggio che sta stato che c'è stato nel recupero ha mantiene inalterate le speranze sia della Bagigalupo che della che del Casalbordino di poter risalire leggermente in classifica e accorciare ancora di più rispetto alle altre per quanto riguarda la serie D il problema è con la discesa del Nereto dobbiamo incrociare le dita almeno per le abruzzesi che sia il Castelnuovo sia il Chieti facciano il prima possibile i punti per salvarsi forse il Chieti è più avvantaggiato rispetto al Castelnuovo perché è più avanti in classifica e ha un calendario più favorevole il Castelnuovo è reduce anche da un tour de force visto tutti i turni infrasettimanali che ha dovuto fare speriamo che come l'anno scorso purtroppo l'anno scorso è accaduto che nella fase finale dove puntava i playoff è crollato per via dei troppi recuperi con la rosa corta speriamo che quest'anno non avvenga e possa tirarsi fuori per una salvezza tranquilla e quindi a cascata poter non incidere troppo sull'eccellenza abruzzese quindi io credo che ti chiedo Antonio no relativamente appunto alla serie D tu pensi tu pensi siano giusti i 42 barra 43 punti che tutti reputano per adesso la soglia minima considerando anche che ci sono squadre tipo il vasto Girardi che addirittura deve recuperare quattro gare Montegiorgio in salute che ha vinto negli ultimi minuti contro il Nereto insomma il Fano che sulla carta è squadra ben attrezzata eppure la classifica purtroppo per loro dice altro però ecco secondo me queste sono formazioni che da qui a qualche settimana potrebbero purtroppo insediare eh il posto del Castelnuovo però in generale secondo te la soglia qual è guardando guardando un po' la classifica? Beh la soglia dovrebbe allora in genere statisticamente è stato sempre provato che il 42 barra 43 punti sia la salvezza matematica senza rischiare di fare play out eccetera però eh quest'anno è un campionato abbastanza strano perché abbiamo squadre come il Nereto che ha fatto pochissimi punti quindi le altre ne hanno presi di più e quindi si è accorciata si è alzata un po' la sticella io credo che stessa cosa per l'Urora eh Alto Casertano e infatti in genere capita capita sempre come per esempio nel girone di eccellenza c'è una squadra a dodici punti e le altre sono più compattate e si tolgono i punti tra di loro nel caso invece della serie D quest'anno ci sono due squadre che hanno veramente pochissimi punti e quindi il resto se ne è avvantaggiato e quindi è molto più e sale la soglia la griglia si è alzata la soglia quindi però io credo che 43 barra 44 si si possa essere tranquilli in serie D a 42 quest'anno a differenza degli altri anni gli ultimi dieci anni c'è il rischio di voler rientrare nella griglia play out e io la faccio rivedere invece la classifica d' eccellenza eh perché eh ci sono degli incroci particolari il penne che deve recuperare eh una partita e e tre quarti diciamo no perché ancora da disputare il match eh ad Alba Adriatica Luca Vallese con l'Alba Adriatica e poi deve completare giorno eh venti eh aprile il match con l'Avezzano terminato purtroppo al ventitresimo del primo tempo per un malore eh accaduto al papà del vicepresidente Rossi ma andiamo ancora un abbraccio perché non ce l'ha fatta purtroppo il pare del vicepresidente tanta commozione appenne eh mercoledì eh in un in un ambiente che ovviamente ha ha sentito pesantemente eh sulla testa questa questo lutto questo grave lutto quindi ancora un abbraccio alla società del penne alla comunità umana eh della città vestina e soprattutto un abbraccio al vicepresidente eh Antonio dicevamo insomma ehm penne che deve recuperare il match con l'Alba Adriatica il eh sedici eh di aprile quando il campionato si fermerà si bloccherà per consentire appunto questo recupero e regolarizzare cristallizzare la classifica e poi giorno venti con l'Avezzano prima eh a microfoni spenti discutevamo sul fatto che l'Avezzano con un'eventuale vittoria domenica contro il cupello e quella nel recupero potrebbe proprio appenne festeggiare la promozione il penne però deve fare di tutto per bloccare impedire stoppare la festa sicuramente se vuole puntare ancora a salvarsi direttamente senza passare per la gloria del play out dovrà provare a fermare la capolista Avezzano potrebbe anche esserci una terza una terza via improbabile perché prevederebbe la vittoria dell'Avezzano nel campionato eh domenica in casa con il cupello se contestualmente non dovessero vincere né Giulianova e né Lago dovesse perdere Lago e la Ponte Romare Giulianova non dovesse vincere in casa contro il questo è più complicato Antonio secondo te poi lo chiedo anche a Damiano? Allora potrebbe guarda complicato sì impossibile no perché abbiamo visto il Ponte Romano in casa è una squadra molto ostica riuscita già a fermare l'Avezzano riuscita a fermare anche Giulianova mentre il Montesilvano fuori casa quest'anno ha raccolto molto di più molti più punti rispetto in casa rispetto a quello che faceva negli anni passati che era un fortino il campo del Montesilvano se non dimentichiamo che Montesilvano la maggior parte punti la fatti fuori casa l'Avezzano ha perso una zero con un gol discusso gol non gol l'Avezzano in dieci l'ha fatta soffrire molto quindi non credo sia una passeggiata per Giulianova Domenica diciamo che è difficile ma non improbabile e poi ovviamente ad Avezzano si preparano già no? Io io nelle settimane passate ho detto eh bottiglie già in fresco qualcosa già hanno stappato domenica scorsa per alcune alcuni risultati che sono arrivati però ecco a proposito è accennato Montesilvano è come non chiedere qualcosa a a Damiano no? perché nell'analisi fatta da Antonio giustamente ha rimarcato il il fortino a Montesilvano per raggiungere tante salvezze soprattutto Damiano molte salvezze anticipate rispetto a quello che la carta poteva raccontarci ad inizio ad inizio stagione qua ci hai messo tu lo zampino? Sì diciamo che beh non non solo io c'è stata una gestione pluriennale eh che ha portato anche a a consolidare una forza di una di una realtà che man mano negli anni è riuscita ad esprimersi sempre meglio quindi quella che poteva sembrare una 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 piazza eh magari non ambiziosa eh ogni anno però si si rivelava una piazza difficile da affrontare e questo ha portato eh serenità serenità all'ambiente e anche consapevolezza eh nei mezzi cosa che onestamente sto rivedendo anche in questa realtà quella di quest'anno seppur con eh diciamo eh attori diversi però quella quella mentalità diciamo sbarazzina di una squadra eh che non ha nulla da perdere e che vende sempre cara la pelle sul campo si si sta dimostrando tale e e questa potrebbe essere sicuramente una eh una problematica per per il Giulianova che ha qualcosa in più da chiedere a questa a questa partita e la la classica buccia di banana che può può compromettere può compromettere un percorso come sempre i pronostici sono fatti per non essere rispettati assolutamente tra l'altro Damiano Giulianova Giulianova che non vince da troppo tempo eh Giulianova che è stato sorpassato in seconda posizione proprio eh dall'Aquila come come te lo spieghi questo periodo buio diciamo così un po' appannato della formazione di Cerasi che proprio dopo aver vinto lo scontro diretto Alfadini con Lavezzano ha spento forse il 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 cervello oppure è accaduta la cosa opposta la troppa la troppa enfasi la troppa eh anche emozione io la chiamo eh così perché sono tanti giovani che eh giocano appunto eh nei giallorossi ha potuto portare la poca esperienza a un giramento di testa a vedere una classifica eh troppo importante oppure subentrato alto altro secondo te secondo me è venuto meno anche quel fattore sorpresa perché diciamocelo chiaramente inizio campionato pochi si sarebbero aspettati quell'inizio del del Giulianova che man mano è giustamente ha eh ha cercato di di andare su in classifica e perché no ambire anche alla alla prima posizione però eh si sa che quando poi una squadra eh e lì su eh ha i riflettori puntati e eh affrontarla eh richiede diciamo anche eh un impegno eh un impegno un po' più ehm più probante più eh più convinto delle delle avversarie e quindi come dicevo è un fattore sorpresa che è venuto meno e e le avversarie hanno trovato risorse risorse in più per cercare di di strappare un risultato positivo contro di loro e in quello magari eh la poca esperienza di alcuni di alcuni elementi eh ha ha potuto fare la la differenza. Resta il mio giudizio iniziale che probabilmente la squadra più bella in assoluto di questo campionato da vedere e e quindi rinnova i complimenti al mister Cerasi perché davvero hanno fatto qualcosa di di molto positivo. Allora Dabbiano eh torno da Antonio Paoluzzi a lui eh chiedo fa un po' strano vedere eh in classifica squadre che storicamente ne parliamo da un po' che storicamente fanno parte di questo di questo campionato di questa eh categoria cosa è successo? Perché Spoltore, Sambuceto, Renato Curi, eh Angolana, Penne, Casalbordino che inizialmente era partito eh con i fare puntati addosso dopo un mercato estivo importante eh poi una mini rivoluzione chiamiamola così nelle ultime eh negli ultimi mesi del mercato di riparazione tra virgolette ed ora una squadra che eh è caduta all'Aquila però aveva inanellato sei vittorie consecutive e aveva messo pressione a tante squadre eh appunto Sambuceto, Angolana, Spoltore e lo stesso e lo stesso eh Pende però ecco storicamente come come la possiamo spiegare questa questa debacle da parte di di squadre Antonio che hanno fatto un po' la storia di questa di questa categoria? Ma allora bisognerebbe analizzarle una per una però in generale dico ci sono alcune società che hanno ridimensionato un po' anche dopo il covid quello che è potuto succedere eh a molte società a livello economico parlo quindi ci sono società che hanno speso meno degli altri anni e stanno faticando un po' di più ma ci sono società che poi al contrario come il Sambuceto come il l'arenato Curio Angolana parlo di nomi di giocatori ha speso di più però eh purtroppo capitano le annate storte dove una palla il mister lo sa meglio di me sicuramente cioè quelle situazioni dove tu fai un tiro in porta fai un gol altre situazioni fai dieci tiri in porta non fai gol ne prendi uno e prendi gol e quelle sono le annate storte. Casalbordino io ero stato ospite qui da te inizialmente eh mi ricordo due tre quattro cinque mesi fa mi chiedevi qual era la squadra che mi aveva deluso di più io ti avevo detto il Casalbordino perché era partita con una rosa importante si ritrovava all'epoca penultima ultima in classifica poi c'è stato il cambio di rotta con l'allenatore ha ridimensionato la squadra mandandovi anche giocatori che avevano un consistente stipendio diciamo che è una grande esperienza puntando su giocatori meno più giovani e alcuni ancora che avevano fame di eh di poter dimostrare qualcosa in questa categoria e quindi ha fatto un'ottima risalita poi eh capita la sconfitta all'Aquila ci può stare ripeto le delusioni sono il Sambuceto perché è una squadra che è partita con una rosa iniziale poi modificata e ora ancora modificata adesso con un nuovo allenatore che secondo me è una rosa di primo ordine perché non dimentichiamo i giocatori che ha presenze amici che ha insomma a giocatori che questa categoria la possono fare occhi chiusi e possono vincere con tutte le far vincere tutte le squadre quindi mi sembra un po' una delusione anche la Renato Gulliangolana con il mister in panchina Rachini con la rosa che ha l'acquisto poi di Cercelludi che è arrivato credo al mercato adesso di gennaio dopo che era andato via da da Pineto che è un valore raggiunto che secondo me per l'eccellenza perché Cercelludi vorrebbe fare la differenza anche ancora in serie D vedo che fatica a trovare una continuità di risultati cioè a volte vincono a volte pareggio a volte perdono non riescono a dare quella scossa alla classifica per tirarsi fuori da queste situazioni Damiano tu come te lo spieghi questo periodo buio da parte di squadre che storicamente invece erano erano lì sempre presenti se si parlava di salvezza era una salvezza acquisita tante giornate prima rispetto alla conclusione del campionato ma spesso e volentieri squadre che eh facevano di tutto per toccare la zona la zona playoff invece quest'anno eh sono state forse queste quattro barra cinque squadre a deludere a deludere un pochettino ma mh me lo spiego nel nella difficoltà del campionato perché mh è vero che magari ehm a inizio stagione ehm fare un buon mercato aiuta ma non è la componente più importante ci sono realtà consolidate abbiamo fatto l'esempio prima del Montesilbano che ha sì cambiato gestione però voglio dire per tanti elementi è rimasta la stessa squadra ma penso al cupello penso al capistrello altre realtà consolidate che riescono a a confermarsi di anno in anno eh a volte magari cercare di alzare l'asticella con il mercato eh non automaticamente può può portare al risultato ripeto questo denota la la grande difficoltà di di questo di questo campionato mister quanto c'entra eh un po' il il covid no? Perché ovviamente tante squadre hanno dovuto non solo saltare eh diverse diverse partite ma soprattutto poi eh questo ce lo dicono gli esperti nel momento in cui si supera il contagio eh qualcosa ci si porta dietro per tante per tante settimane eh fortunatamente non ci siamo bloccati come è successo l'anno scorso eh però credo che anche questo fattore bene o male abbia inciso eh sulla prestazione di tutti non solo di quelle che ovviamente sono in bassa classifica. Ma sì sicuramente sicuramente è inciso è inciso del singolo calciatore che magari può avere una un recupero da da una situazione comunque di difficoltà più lungo rispetto a un altro ma eh lo è anche per le società che si trovano eh voi o non voi costrette a recuperare eh delle partite eh in eh situazioni diciamo di calendario eh magari più difficoltose rispetto alla normalità però fa parte fa parte del gioco insomma e sapevamo che eh quest'anno sarebbe stato l'anno zero l'anno della ripartenza con con dei limiti eh che ai quali ci siamo comunque abituati a eh a a reagire e eh sperando che le prossime possa essere l'ultimo Damiano eh davvero perché insomma comincia non non solo sotto l'aspetto sportivo ma eh soprattutto sotto l'aspetto sociale non solo vado a salutare il nostro inviato Federico eh di Fabio ciao Federico bentornato come stai innanzitutto? Buonasera Lorenzo un saluto a tutti gli spettatori anche eh agli ospiti fortunatamente meglio ho avuto una settimana di covid non ancora smaltisco al completo però speriamo per domani di essere eh abile arruolabile beh ne stavamo parlando proprio poco fa con mister Cianfagna analizzando un po' eh la classifica non so se hai ascoltato le parole del mister eh analizzando appunto la la situazione non solo in bassa classifica ma anche eh nelle zone nelle zone medio medio alte questo maledetto virus che insomma speriamo eh vada via definitivamente eh con col passare dei eh dei mesi Federico abbiamo analizzato inizialmente eh ovviamente la questione Avezzano conti alla mano potrebbe essere già quella del venti recupero col penne la giornata giusta per per festeggiare però eh come diceva l'avvocato Antonio Paoluzzi occhio perché il penne ha bisogno eh ha bisogno di punti e in quei primi ventitré minuti ha dimostrato all'Avezzano che sicuramente non sarà una gara facile una squadra che lotta per eh salire di categoria l'altra invece che deve lottare per mantenere l'eccellenza che che impressioni hai tu in generale soprattutto ma eh proprio a riguardo dipende da Avezzano ma guarda Lorenzo andrà bisognerà vedere quella qual è la voglia che prevarrà perché ovviamente l'Avezzano avrà poi altre eh quattro gare per eh brindare al successo però ovviamente prima si chiude il discorso eh è meglio è quindi eh sarà sicuramente una partita difficile io sono sicuro che il penne così come ha fatto nel recupero contro il Sambuceto venderà cara la pelle anche perché i punti eh adesso sono fondamentali e il penne sicuramente deve ancora recuperare a qualcosina è ovvio che questi questi stop eh continui eh della squadra di Odice hanno penalizzato e non poco eh la la formazione stessa perché ovviamente eh trovarsi a dover lavorare anche senza diversi elementi o comunque dover lavorare in maniera diversa e non dover non poter giocare e quindi fare eh tre o quattro settimane con sei sette otto partite eh assieme può essere difficile può sicuramente condizionare eh una stagione che dobbiamo dire non è stata felicissima per il per il penne che si era ripresa proprio nell'ultimo l'ultimo periodo quindi eh aveva trovato un buon ruolino di marcia poi c'è stato questo eh questo stop ovviamente eh Lorenzo io ti ti faccio in cera vita ormai l'Avezzano non ha nessun eh modo di perdere questo campionato e deve essere un suicidio eh assistito questo della eh della squadra di Paris perché mancano quattro cinque punti e ehm ovviamente anche le altre devono vincere tutte ci sarà anche lo scoglio torrese perché dopo dopo penne ci sarà la trasferta di Giulia Nova contro il contro la torrese per l'Avezzano quindi eh non sarà facile blindare in quella settimana però sono sicuro che eh non sarà difficile per addossanto se compagni centrare quello che appunto l'obiettivo da inizio anno ma che stanno meritando diciamo che c'è da scegliere solo se festeggiare la promozione tra le mura amiche o o in esterna no? Facendo poi il viaggio di ritorno brindando a questa eh serie di tu Antonio la la l'Avezzano no? L'ambiente Avezzano lo conosci lo conosci eh benissimo con eh questa questa nuova iniziativa da parte del presidente Paris questa sorta di azionariato eh popolare che sembra essere eh ad oggi eh la cosa più in vetrina la la l'argomento messo più in mostra eh ma questo che cosa vuol dire? Che si è stufato eh Paris oppure eh ci fa capire che per tornare in quarta serie e per starci eh in un certo modo c'è bisogno di forze fresche non solo tecniche ma anche economiche. Ma allora sì conosco bene l'ambiente e dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto noi passami la battuta credo che il direttore sportivo Ridolfi si starà toccando tutte le parti scaravanticamente perché abbiamo comprato ferro l'ho sentito stamattina sta comprando ferro conosco conosco Gigino che sicuramente starà lì toccando tutto no dico conosco allora il problema di il problema dell'Avezzano non è che si è è un problema ovviamente io io non credo io non è un problema però eh Paris sono anni che porta avanti la causa dell'Avezzano calcio poi l'anno scorso con il covid ci sono state anche delle situazioni economiche che saranno sicuramente venute meno da Avezzano appoggi economici da parte di imprenditori o di qualcun altro quindi è normale che dopo dieci undici anni lui abbia bisogno anche di respirare un po' credo che sia nella natura delle cose e tirare un po' il fiato e quindi essere affiancato da qualcuno o sostituito tra virgolette nel senso che il suo apporto Paris lo darà sempre all'Avezzano calcio uscirà fuori come figura da presidente ci sarà un altro soggetto con l'azionariato popolare cercano di avere subito immediatamente dei soldi freschi da puoi mettere mettere in cassa avere un budget iniziale per poi per preparare la prossima stagione per preparare la prossima stagione e poi andare con le sponsorizzazioni a chiudere quei punti che ti servono per prendere dei giocatori per fare un campionato tranquillo in serie D certo io mi auguro l'Avezzano salga in questo campionato non distrugga la rosa fatta fino a che ha avuto che ha vinto il campionato di eccellenza quindi come ha fatto il Castelnuovo due anni fa il primo anno di serie D mantenere l'ossatura inserire tre quattro cinque giocatori di categoria che l'Avezzano può permettersi economicamente di poterli avere e fare un campionato tranquillamente a salvarsi da metà classifica per i primi primo anno e poi da vedere Cianfagna eh la 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 stessa analisi la chiedo a te Damiano però inserendoci la questione tecnico tattica relativa a mister Torti eh secondo me l'ho detto più volte eh ha messo le basi proprio durante il minitorneo la società marsicana quando durante una partita col Chieti eh Paris in diretta confermò eh Torti sulla panchina eh dell'Avezzano e poi quest'anno sono arrivati i risultati ovviamente accompagnati da una campagna acquisti eh straordinaria no? Dos Santos su tutti, Pendenza, insomma Donatangelo chi più ne ha più eh ne metta eh tu pensi sia eh corretto quello che diceva Antonio mantenere rossatura e poi mettere dentro degli innesti di categoria e soprattutto se Torti merita con l'Avezzano post vittoria d'eccellenza di eh ricalcare ancora i campi di di Serie D. Ma ehm sicuramente eh mantenere quell' interagliatura eh che porta la vittoria di un campionato eh necessario per poter anche programmare la la stagione successiva in un campionato superiore partendo ovviamente dall'allenatore perché se se diciamo che il camminato di eccellenza eh abruzzese è uno dei più difficili in Italia non vedo perché un allenatore che vince il campionato non debba giocarsi le le sue carte nel nella categoria superiore. E cosa che è successa a Lucarelli ad esempio l'anno scorso e e quest'anno giustamente siede ancora eh meritatamente sulla sulla panchina del Chieti. Guarda io ti ti faccio anche un altro esempio magari eh con una differenza di categoria ma eh anche perché l'abbiamo vista ehm l'abbiamo vista l'anno scorso. Eh io vedo il campo basso eh che quest'anno sta ben figurando nel campionato di Serie C. Ha mantenuto interamente la rosa dell'anno scorso. Forse l'ha anche un pochino indebolita perché alcuni alcuni giocatori non hanno eh diciamo sposato il progetto tecnico e di una categoria superiore ma mantenere quell'intelaiatura quello staff tecnico e e anche quella quella coesione di squadra le ha portate a raggiungere con largo anticipo una salvezza onestamente isperata per una categoria e per un girone così difficile come quello eh quello C. Eh quindi eh la stessa la stessa cosa è sicuramente replicabile per per un campionato di Serie D con la discriminante ovviamente dell'aumento dei fuori quota quindi probabilmente il vero intervento che andrà fatto sarà quello di scegliere eh dei mh dei giocatori dei fuori quota eh già pronti per la categoria ovviamente cercando magari anche eh all'interno del proprio eh della della propria scuola del proprio settore giovanile o perché no eh eh guardando eh in casa delle delle altre società di del campionato di eccellenza perché poi eh tornando sempre al campo basso io vedo Liguori che ha ben figurato qui in eccellenza che sta eh si sta dimostrando uno dei migliori giocatori del del campionato di di Serie C quindi eh il campionato è una categoria formativa quella quella nostra Damiano no? Eh quindi negli anni abbiamo avuto tantissime esperienze e quindi eh io consiglio vivamente a chi si occupa di mercato di guardare bene i nostri ragazzi perché sono veramente validi. A proposito di 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 Molise no? Visto che è una realtà che tu conosci benissimo e hai fatto riferimento al campo basso io personalmente non mi aspettavo eh l'uscita di scena dell'Aquila contro eh il città eh di Isernia però evidentemente nelle partite chiamiamole secche anche se poi qui parliamo di andata e ritorno possano uscire fuori eh delle sorprese i valori vanno un po' a farsi a farsi benedire e se tecnicamente l'Aquila sulla carta è più forte il campo purtroppo ha detto altro e con questo ti chiedo oltre al valore appunto dell'Aquila se poteva essere la via più breve per e meno e meno ripida per eh cercare la 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 promozione in Serie D piuttosto che il playoff nazionale ovviamente. Eh probabilmente sì e comunque era una una doppia possibilità da sfruttare per l'Aquila perché passare per i playoff intanto presuppone vincerli e poi comunque affrontare due turni eh vincere la Coppa Italia a volte ti permette di di salire categorie anche vincendo solamente due turni perché poi magari incontri una squadra già promossa e e quindi in automatico si ha diritto a a alla promozione. È un peccato sicuramente un peccato per l'Aquila perché affrontato una squadra onestamente eh alla propria portata che però eh magari anche ci ha messo altro secondo me soprattutto a livello mentale a livello di concentrazione ha messo qualcosa in più soprattutto perché affrontando una squadra di nome come ancora dell'Aquila poi gli stimoli vengono quasi in automatico no mister? Sì 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 no no sicuramente poi frutto anche del risultato dell'andata inaspettato secondo me per entrambe le eh le squadre poi il ritorno è stata eh una una vera battaglia certo la lotteria eh di eh sì ai rigori può può vincere chiunque però eh se se in due gare ci si riesce a qualificare bisogna solo dare merito a a chi è riuscito a passare il turno. Allora io ricompongo il mosaico nella sua totalità perché poi domenica durante eh le interviste le immagini eh ci sono stati cinque o sei protagonisti che hanno evidenziato gli errori arbitrali le solite polemiche che però insomma sono un po' il sale non solo di questo campionato ma anche del calcio in generale. L'immagine l'immagine più bella secondo me eh la voglio chiedere proprio a Federico Di Fabio è stata quella bella nel senso eh come messaggio che ha voluto mandare però quelle lacrime del presidente eh Quintino Paluzzi eh parlando di mister Bonati hanno un po' lasciato lasciato il segno ma eh che succede Federico secondo te eh dopo le lacrime arriverà il sorriso oppure eh non ci saranno sorprese da qui alla fine del del campionato? Ma guarda Lorenzo eh non so precisamente la situazione in in casa Delfino però eh la cosa è sicura Bonati sono due settimane che hanno allenato la squadra e al momento non non pare che sono rappresagli che facciano pensare appunto ad un al ritorno del tecnico eh che ormai erano nove anni che che appunto era con il Delfino e questo spiegano comunque le lacrime del del padrone Quintino Paluzzi eh perché come lui stesso ha detto nella nella nell'intervista eh molto del progetto Delfino è merito comunque eh sicuramente c'è stato del forte contributo di di con il primo Bonati alla causa eh Delfino addirittura Paluzzi diceva sessanta per cento sono io e quarantanta per cento eh eh Bonati eh cosa che posso confermare sinceramente avendo vissuto ehm la realtà per avendo raccontato la realtà ehm diverse domeniche appunto per Roteotto Sport posso confermare questa questa cosa Bonati fa tutto in quella società eh fortunatamente adesso è arrivata la salvezza o quasi comunque manca eh un punto ma potrebbe arrivare anche così la matematica salvezza per il Delfino che è già a quota quarantaquattro punti eh però ovviamente la situazione va monitorata io non parlo più che altro a livello eh per quest'anno ma bensì per quanto riguarda il progetto tecnico eh per la prossima stagione perché si sa comunque Bonati eh ha un un carattere forte eh può essere amato può essere odiato però i risultati parlano eh ovviamente vanno sempre dalla sua parte perché ottiene sempre risultati con squadre giovanissime eh quindi Paluzzi stesso lo ha capito sa che comunque è una figura troppo importante per il Delfino eh di conseguenza lo strappo se non verrà ricucito in queste in queste settimane sicuramente verrà provato eh nelle prossime per cercare appunto di di stare insieme almeno per la prossima stagione perché è difficile immaginare sì ma quel pianto quel pianto di Paluzzi è molto significativo no perché sa eh di addio definitivo o o o quasi lui è ovviamente eh colpito da questa decisione se decisione è stata da parte di Bonati ha espresso in in quel modo il rammarico no per non avere più in in panchina Bonati che come diceva Federico Di Fabio si occupa a tutto tondo della questione del Delfino da tanti anni a un po' diciamo alla inglese all'antica un manager alla Fergus no il Fergus da Bruzzesi lo possiamo chiamare chiamare eh chiamare così insomma noi speriamo che Bonati eh torni in panchina presto poi a prescindere dalla squadra d'appartenenza perché credo che abbia eh fatto vedere tante eh tante belle cose in eccellenza soprattutto con squadre che tecnicamente rispetto alle altre forse non erano così dotate ma con l'impegno con questo spirito eh come se fossimo al cospetto di una vera e propria famiglia ha ha tolto parecchie castagne dal fuoco alla alla formazione eh pescarese eh vi faccio vedere perché poi a beneficio se posso aggiungere a beneficio dei di chi ci segue da casa ovviamente la situazione è un po' paradossale perché comunque non è non sono arrivate dimissioni ufficiali alla società quindi la società stessa non sa come eh comportarsi ovviamente eh visto anche il rapporto non può forzare troppo la mano Bonati semplicemente le ultime due settimane non ha allenato la squadra senza eh aver presentato dimissioni quindi è comunque una una situazione che può cambiare da da momento all'altro ma ripeto al momento non non pare ci siano notizie positive per per il Delfino però potrebbe essere anche una sorta di periodo io ci metto anche le questioni davvero personali eh perché poi noi parliamo di calcio eh parliamo delle gare che si sono giocate di quelle che dovranno giocarsi però poi all'interno eh del 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 mister nella sua testa nelle sue situazioni personali ci sono altre vicende che ruotano attorno appunto alla figura degli allenatori che possono un attimino dire eh stacco la presa per un paio di settimane per un mese tanto ormai tra virgolette la salvezza è acquisita e e e mi rilasso un po' perché perché ne ho ne ho bisogno ovviamente parliamo sempre di di dilettantismo e credo che la 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 questione la parte umana sia fondamentale al rispetto a quella a quella sportiva ma davvero staremo a vedere mentre parlava Federico è passata un attimo eccola qui l'immagine del prossimo turno quello che si giocherà domani sarà la trentunesima giornata ve lo leggo Alba Torrese Angolana Penne Avezzano Cupello Casal Bortino Capistrello Delfino Curi Pescara Spoltore Giuliano Montesilvano Lanciano Villa duemila quindici Ponte Vomano L'Aquila San Buceto Baggi Galupo il mio personalissimo circoletto rosso lo metto su Angolana a penne voi non potete copiarmi quindi dovete scegliere un match eh un altro match o altri match rispetto a a quello scelto da me per me Angolana Penne eh non solo per la classifica ma anche perché credo eh possa essere l'ultimo bivio per la formazione eh di Odice per tentare il tutto per tutto e per tirarsi fuori dalla eh bagarre eh play out eh vi lascio la schermata vado da Antonio Paoluzzi a lui chiedo il suo personalissimo circoletto rosso allora io escludendo le squadre di testa quindi qui abbiamo parlato prima io direi anche da tenere sotto controllo Casalbordino Capistrello perché con una vittoria il Casalbordino può risalire a trentaquattro punti il Capistrello a quaranta non sarebbe ancora matematicamente salvo e quindi sarà uno scontro abbastanza abbastanza duro perché il Capistrello non può permettersi di perdere a Casalbordino mister Cianfagna? Eh allora io cambio la mia idea. Te l'ha rubata l'avvocato eh? L'ho rubata io? Arca miseria. Eh vabbè ma gli avvocati insomma sono sono da prendere con le pinze. Siamo ladri no eh? No 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 non mi permetterei mai assolutamente però siete da prendere con le pinze. Sia quelli di parte che quelli della controparte insomma. Assolutamente. Vai mister. Vado su San Buceto o Bagicalupo più o meno per gli stessi motivi perché una vittoria del San Buceto sicuramente eh darebbe grosso grosso respiro alla scuola di di Ronci in chiave salvezza e probabilmente eh un darebbe anche un eh un brutto colpo alla Bagicalupo che al contrario facendo punti potrebbe vedere eh sempre più viva la possibilità di disputare disputare play out. Sì perché ricordiamo il limite nove punti il limite con eh per quel che riguarda play off e play out quindi in questo caso la Bagicalupo sarebbe eh non sarebbe eh a meno sette rispetto allo eh spoltore eh certo uno scivolone col San Buceto toglierebbe un po' di speranze proprio alla Bagicalupo che lo ricordiamo proprio nella giornata di ieri ha eh fatto tornare sulla panchina mister eh Borrelli eh a questo sondaggio manca eh Federico di Fabio secondo te Federico eh la da circoletto rosso la gara la gara da attenzionare di più qual è? Te le faccio rivedere. Sì vado un po' sullo scontato ma dico al badriatica torrese per il valore ovviamente delle due squadre entrambe giovane entrambe fortissime perché abbiamo visto del calcio spettacolare in queste in queste trenta gare ma anche perché l'albadriatica eh probabilmente l'unica squadra che può eh ancora far disputare i play off alla quinta posizionata perché il lanciano ormai è a quattordici punti dall'Aquila e per lo stesso discorso che state facendo prima in eh chiave salvezza per la Bagigalupo vale lo stesso anche per la quinta eh dal badriatica a quota 44 con una partita da recuperare credo appunto sia l'unica eh che attualmente possa ancora sperare un po' nella eh nella nella disputa appunto dei play off per la quinta classificata e poi ovviamente c'è la torrese che eh sta continuando a stupire e lì magari ottenere un secondo posto eh farebbe sicuramente comodo in chiave play off e sarebbe anche di prestigio per una squadra appunto giovane ma che è a un eh un livello di organizzazione ormai consolidato importantissimo per l'eccellente. Tra l'altro eh proprio nello scontro di domani con la torrese e in quello del sedici sabato lo ricordo con eh il penne l'alba adriatica eh può decidere le proprie sorti ma può decidere le sorti anche eh in zona come diceva Federico eh play off ma anche in zona in zona eh play out perché eh insomma adesso il margine per far disputare la quinta eh i e play off potrebbero esserci e eh quindi l'alba adriatica in gergo si dice la tirerà anche anche al penne non è per nulla scontato Antonio Paoluzzi ma sicuramente hanno tutte purtroppo per il penne e purtroppo anche per l'alba adriatica si scontrano due squadre che hanno ancora da chiedere molto a questo campionato e non sono in quelle posizioni di classifica classiche di metà classifica del campionato dove ti puoi anche un po' sbragare come si può dire in gergo quindi sono due squadre che hanno determinati obiettivi da raggiungere e ce la metteranno tutta per poterli raggiungere quindi eh sarà uno scontro anche duro stesso discorso vale per il penne con il recupero di quei quarantase di quei settanta minuti che mancano con l'avezano calcio come diceva giustamente prima il tuo collega eh anche l'avezano che deve andare a penne non troverà una vita facile perché il penne ha bisogno di punti allora guardando il calendario io adesso non vi faccio vedere le le schermate totali da qui alla trentaquattresima ma nemmeno il cupello ha un bel calendario eh perché davvero eh insomma non ce l'ha nemmeno lo spoltore non ce l'ha nemmeno il penne e sarà duro anche quello di Renato Curi e Casalbordino appunto perché questa speranza di far disputare alla quinta il playoff potrebbe eh appunto indirizzare il campionato da qui alla fine eh verso tutte gare tirate verso tutte gare da eh giocare ovviamente col coltello fra i denti perché eh ognuna di queste squadre avrà davanti a pochi metri diciamo così un obiettivo da eh da raggiungere riguardando la classifica eh parlavamo appunto eh dei quarantacinque punti eh del Lanciano eh su eh quindi con meno quattordici rispetto rispetto all'Aquila eh forse queste tre l'Aquila Giuliano Vettorrese si giocheranno le ultime speranze per acquisire un posizionamento migliore nella nella griglia eh adesso vi faccio la domanda più difficile ehm da Bagicalupo a eh San Buceto eh secondo voi eh quali saranno le due squadre out da questa da questa griglia pericolosissima Damiano? Ma eh vedendo anche un po' lo stato di forma delle delle squadre e anche gli incroci ovviamente eh o anche anche gli incroci perché quelli sono sono fondamentali. Sì sì io credo che comunque Casalbordino se manterrà nelle ultime partite il ritmo pre pre Aquila eh potrebbe tirarsi realmente fuori da questa da questa bagarre e probabilmente il San Buceto la squadra che è il calendario un pochino più semplice e potrebbe potrebbe andare via e quindi queste sono le le due squadre che vedo favorite nella nella rotta salvezza. Quindi Casalbordino eh che potrebbe giustamente matematicamente raggiungere quarantatré eh quarantatré punti e ehm San Buceto che eh domenica domani giocherà contro contro il Villa lo ricordiamo già retrocessa la eh formazione di Simone Vitale da qualche settimana che ovviamente però se la giocherà con tutti e l'hanno l'hanno dimostrato e l'hanno detto e ridetto a più eh a più riprese eh l'ultima domanda l'ultimo giro e poi andiamo quasi a a chiudere questo eh questa questa puntata un occhio eh lo vorrei buttare sul prossimo campionato di eccellenza mi gioco già il jolly con Damiano e chiedo se starà a casa come questa sera oppure se lo rivedremo come allenatore su qualche panchina io spero di categoria superiore però stiamo parlando di eccellenza e ora Damiano ti dico questo mi arrivano voci di tante telefonate non dico whatsapp dico proprio telefonate mi confermi? Qualcosa qualcosa già bolle in pentola eh però siamo ancora ma c'è solo l'acqua mister che bolle o avete buttato dentro qualcos'altro? No no per allora eh l'acqua inizia a bollire eh c'è c'è il tempo poi per 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 cuocerlo questo questo piano però te lo chiedo con eleganza ed educazione ma mai e poi mai mi dirai quale quale squadra ha provato quali squadre ho trovato anche l'altra volta e non ti ho risposto quindi eh lo so ci sono riuscito nemmeno a telecamere spente figuriamoci davanti davanti ai nostri amici telespettatori però eh ti posso chiedere se una ti posso chiedere se è una squadra di eccellenza almeno? Sì più sì sì va bene perfetto ci siamo qualcosa abbiamo tirato fuori mister il tuo avvocato dice di avvalerti la facoltà di non rispondere però non ho detto di di quale regione quindi è molto ampio il partenza. Eh vabbè ma se sei qui se sei qui è perché uno perché eh ti piace ti piace stare in Abruzzo e tu sei in una trasmissione che parla di eccellenza io speravo in una categoria eh superiore ovviamente come lo auguro a tutti però col termoli in serie D no no col termoli in serie D non non è capitata ancora questa occasione poi sono ancora più difficile. Ecco vedi Antonio ti conosce bene no? E ti provoca dicendo termoli però quei riferimenti al campo basso insomma fanno un po' capire la 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 provenienza del mister davvero sempre sempre eh disponibile eh quindi insomma eh Damiano ha detto la sua sulle probabili no? Eh fuori uscite dalla griglia dalla griglia eh play out io lo chiedo lo chiedo a Federico vi chiedo il play out perché secondo me quelle dei play off insomma eh ci siamo no a partire dall'alba adriatica fino ad arrivare all'Aquila secondo me saranno saranno quelle poi toccherà solo vedere il distanziamento tra la seconda e la quinta a te Federico ma Lorenzo una domanda ovviamente è difficilissima la cosa salvezza si aggirerà più o meno sui 41 42 punti eh e non di più anche è considerato quelli che saranno gli incroci quindi qualcuno inevitabilmente perderà punti eh per eh c'è ovvio ovviamente si scontrano a diverse squadre io credo che purtroppo il penne sarà eh una delle delle accreditate in un posto play out ma anche per i motivi che spiegavamo prima in trasmissione e per mh quelle che sono state appunto le difficoltà a portare avanti questa eh questa stagione eh purtroppo non vedo bene lo spoltore nonostante abbia diversi amici eh in in squadra in società però purtroppo non ho eh tanto aspettative esatto non ho tante aspettative e secondo me l'ultimo posto se lo giocheranno eh Casalbordino e Angolana con eh come diceva mister Champagna il Casalbordino lo vedo eh un po' meglio sono sicuro che il San Buceto sarà la prima scuola a tirarsi tirarsi fuori anche visto il calendario perché affronterà il Villa e il Deltino successivamente entrambe probabilmente eh non avranno più nulla da dire al campionato quindi eh potrebbero essere degli avversari un po' più un po' più comode Antonio a proposito della classifica eh vado dall'avvocato Paoluzzi eh poi per la quintultimo ovviamente è tutto da giocare perché ci potrebbe essere quel distacco di nove punti per escludere la penultima eh e e quindi innanzitutto ottenere ovviamente una posizione una posizione migliore per l'eventuale finalissima a campo neutro eh dove lo ricordo no? Non saranno previsti calci di rigore quindi la migliore squadra posizionata in classifica alla fine dei probabili centoventi minuti eh terrà manterrà la eh categoria dicevo Antonio Bagigalupo ventotto anzi la classifica la faccio rivedere perché davvero stiamo dando i numeri Bagigalupo ventotto spoltore trentacinque combattere fino alla fine da una parte e dall'altra per non far allargare ulteriormente questo questo distacco Antonio ma sicuramente credo se non vado errato del prossimo turno c'è proprio spoltore Bagigalupo spoltore o no? se non vado errato. Il prossimo turno eh c'è San Buceto Bagigalupo lo spoltore invece andrà a giocarsi eh le restanti eh speranze salvezza contro la Delfino Curie Pescara. Eh questo è già un turno molto importante perché poi mancherebbero solo tre turni alla fine in caso di successo dello spoltore domenica con con Delfino Curie faccio un esempio perché è una squadra che sta un po' più tranquilla in classifica è una sconfitta del Bacigalupo fuori casa eh eh già comincerebbe quel gap si comincerebbe ad allungare e sarebbe quasi incolmabile nelle ultime tre giornate quei nove punti. Potrebbe già verificarsi domenica prossima però eh domenica eh domani quindi non lo so è difficile io pure come dicevano loro vedo una salvezza 42 43 41 42 punti le squadre che sono più vicine a quel traguardo sono San Buceto e Nato Curie Angolana. Spoltore, Penne, Casalbordino e Bacigalupo non 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 conoscendo bene il calendario di tutte e tre le squadre. Sì. Specie quello del Casalbordino tenderei a dire che questa potrebbe essere se non ci fosse il distacco di nove punti la credibilità pre-out. Allora non vorrei dire eresie però se non erro l'ultima giornata eh metterà di fronte Renato Curie Angolana e Casalbordino però forse eh for ho qualche dubbio su questa eh su questo su questo eh incrocio però da quello che ho capito insomma. Ma Lorenzo Casalbordino avrà Capistrello, Montesilfano, Penne, Cupello quindi tutti i quattro scontri. Ok. Quindi quattro scontri. Se hai davanti la schermata guarda così mi fai una cortesia. L'Angolana l'ultima giornata non ricordo però credo non una partita eh una partita semplicissima però eh su questo. Ah Bastomarina con la Bagigalupo. Ecco quindi anche lì insomma la Bagigalupo ha l'occasione domenica col San Buceto l'ultima con l'Angolana di non solo di 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 poter vincere ma ovviamente di non ehm estendere questo questo svantaggio al cospetto di 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 quelle che sono che sono davanti eh posso tenervi altri quattro minuti così chiudiamo l'ora eh oppure ragazzi dovete scappare ditemi voi l'ora è particolare eh altrimenti faccio una domanda una domanda a testa e vi lascio e vi lascio e vi lascio. No vabbè quattro minuti. Perfetto. A Damiano Cianfagna chiedo eh di Lupinetti perché eh mi dicono abbia passato giorni importanti in in società importanti è un prospetto eh ormai certo e sicuro eh e chiedo a mister Cianfagna dove può arrivare questo ragazzo? Ma eh Lupinetti per me non ha non ha limiti. Eh qual è la caratteristica più importante Damiano? Perché dovrebbe secondo te eh una società attenzionare questa questa figura questo ragazzo? Perché è un ragazzo che ha esordito a quindici anni e otto giorni in attesa vi ha aspettato otto giorni di erota. Sì. Altrimenti era già pronto. Avrebbe esordito a quindici anni un giorno ed era già pronto e eh misurarsi in una categoria del genere così difficile a quell'età non è da tutti soprattutto con quelle qualità perché se hai qualità tecniche hai qualità eh fisiche e atletiche eh puoi dire la tua fino a un certo punto se hai anche la testa eh pronta eh vuol dire che puoi sicuramente ambire a a qualcosa di più è il momento giusto diciamo no perché poi spesso e volentieri si 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 sente parlare di eh è ok ma io ho giocato con sei sette otto fuori quota però poi se andiamo a vedere i fuori quota sono diciottenni diciannovenni diciassettenni non dico che a quell'età si giochi in Champions ci sono eh dei piccoli rari casi eh di di giovanissimi che calcano i campi più importanti d'Europa però se un giocatore è forte a quell'età mister non dico che sia in serie però il il percorso deve essere quello eh è un peccato se un nome per lui aver perso un anno a causa della pandemia perché sarebbe stato proprio ehm quel quel banco di prova necessario per poi eh come dicevo ambire a altri palcoscenici eh dalla sua c'è l'età perché o quindici o sedici voglio dire cambia poco ma eh già dall'anno scorso eh ricevevamo richieste di accrediti da parte di società molto blasonate e credo che lo stesso stia accadendo quest'anno eh nel quale ha avuto la possibilità di giocare eh tutto il campionato e non solo quelle otto partite iniziali e dimostrandosi già un ottimo giocatore a prescindere dall'età che è una cosa per me molto importante perché eh il giorno che arriveremo a non obbligare le società a giocare con i fuori quota avremo risolto tutti i problemi di questo eh di questo sport. Chi è bravo chi è giovane ed è bravo gioca a prescindere che abbia quindici sono pienamente d'accordo spesso faccio polemica con altre persone però io credo che lo sport il calcio in generale in particolare eh sia meritocrazia quindi a prescindere dall'età chi è bravo a giocare a pallone deve giocare chi non è bravo o va in panchina o come il sottoscritto eh ha smesso cioè eh è questa insomma è la è la dura legge eh della 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 vita però eh le regole sono queste ovviamente e vanno e vanno rispettate Antonio è meglio approdare dico Lupinetti ma parlo in generale per un giovane approdare in una società importante oppure è meglio approdare in una società meno importante che però ha un occhio di riguardo sul settore sul settore giovanile dipende sempre dalle obiettivi che ha la società sul ragazzo se ha un obiettivo di crescita per poterlo farlo per poter farlo crescere in una categoria adeguata a lui eh importante è che il ragazzo vada in una società che punti su di lui poi se deve andare in una società anche grande ma a fare numero a confondersi con altri dove non c'è un lavoro settoriale su di lui allora è preferibile mandarlo in un'altra società anche se però il ragazzo Antonio a prescindere dal tifo il ragazzo ovviamente è allettato anche dal nome dal simbolo dallo stemma della squadra è normale lì chi deve pensare chi deve pensare a mettere a mettere filtro cioè chi deve pensare ad indirizzare il ragazzo perché poi ovviamente ci sono delle società di serie A che hanno un fortissimo settore giovanile però eh la storia mi insegna che ce ne sono tante anche di serie B che hanno un settore un settore giovanile ancora più forte caso mai però eh non hai come ti posso dire eh la 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 quell'istinto di accettare appunto perché il simbolo della grande squadra a prescindere dalla forza del settore giovanile ti induce appunto a prendere un'altra strada chi interviene lì che che cosa si fa sai quanti ragazzi conosco che sono che sono andati in determinate squadre perché i genitori erano tifosi di non so Juve Inter Milan Roma Lazio insomma questo può accadere no questo accade accade di continuo però bisogna sempre fare una valutazione ma chi lo mette il filtro? Chi lo mette il filtro? Il filtro dovrebbe essere colui che fa le segnalazioni che porta il ragazzo alla categoria superiore o colui il quale eh è legato alla società di appartenenza che ha contatti con la società di categoria superiore può consigliare al meglio il ragazzo e la famiglia del ragazzo e ripeto facile andare a giocare a una società che ha un grande blasone ma se sei un numero e vai lì poi a scaldare la panchina e migliori poco mentre casomai una società di serie B come era il Sassuolo diversi anni fa che era in serie B ma era un grande settore giovanile c'è la spalla che è un buon settore giovanile in serie B eh ci sono in realtà come Chievo credo che la spalla non so se Damiano può confermarmi credo che la spalla sia una di quelle squadre che ha tensionato Rubinetti eh eh non so non so una ma realmente delle credo spalle Milan da quello che che io so io so di Fiorentina Monza Inter eh io se è forte dico Roma scusatemi se insomma mi paleso però se è forte così accontentiamo più vicino a casa quindi bravissimo eh insomma è anche più vicino per noi per andare a guardare qualche qualche parola questo è un commento di parte quindi ve lo dico in anteprima eh quindi Antonio puoi completare vai oh dicevo quindi bisogna sempre valutare i pro e contro e poi la scelta nel calcio ci vuole anche fortuna diciamo diciamo diciamoci la verità ci vuole anche fortuna perché casomai vai in una società dove hai meno possibilità di poterti mettere in evidenza e poi esplodi eh sa parlavamo prima di Rigori Rigori ha girato un po' di squadre è stato in eccellenza poi è andato a Catania in serie C poi è tornato a Notaresco adesso ha trovato la sua dimensione a campo basso e in questo girone di ritorno è l'arma in più del campo basso per portarla alla salvezza e sta esplodendo in una maniera eh impressionante perché sono otto otto gol nelle ultime dieci partite si è procurato il rigore domenica e mercoledì ho visto il recupero tra il tre a tre si è procurato il calcio di rigore finale ha fatto gol anche lì quindi non è detto poi che ci si arrivi da tramite solo una strada determinate categorie perché ripeto era partito molto bene di cuore a diciotta anni a Catania eh sembrava che cosa dovesse fare adesso si è perso un po' adesso sta ritornando in auge dipende eh sì e poi l'importante è arrivare all'obiettivo c'è chi prende l'autostrada e arriva prima che ci arriva un po' più tardi facendo strade tortuose però io ricordo Parisi il tessino sinistro attualmente a Empoli io Parisi lo vedi giocare con il Pescara Primavera col Benevento stava a Parisi e io l'Empoli mi aveva mandato lì a vedere un giocatore un centrocampista io chiamai su e dissi guarda il centrocampista non è male ma c'è il tessino che è forte e ma a sinistra siamo di se no a sinistra siamo coperti va bene poi Parisi sappiamo tutti è andata da Benevento è andata da Vellino ha fatto la serata regionale con Lavellino potenza adesso è a Empoli gioca titolare in Serie A nazionale under ventuno io ho chiamato su e detto dopo quattro anni è arrivato per altre strade vi è arrivato da voi 5-6 anni fa e questo è il vantaggio degli avvocati no che vanno a cercare i centrocampisti e trovano e trovano i terzini mi mandano a cercare i centrocampisti assolutamente certo mi aveva impressionato con il Pescara la facilità di corsa la gamba la profondità rientrava fase offensiva fase difensiva Federico un delfino che sta crescendo invece non so se Federico ma Lorenzo io anzitutto vorrei collegarmi ti sentite? Sì sì ti sentiamo forse arriva un po' in ritardo il nostro audio ma ti sentiamo ok eh sì no dicevo vorrei collegarmi alle parole dell'avvocato confermando in toto tutto perché è un esempio eclatante è stato quello di Teraschi che è tre stagioni fa è approdato alla Latina quindi è come praticamente se la prossima stagione Lupinetti eh andasse in una squadra di serie B eh si è ritrovato quest'anno dopo due stagioni in serie D hanno vinto il campionato quest'anno ha fatto la prima stagione da professionista quasi tutte le gare da da titolare quindi eh anche lui ha testimonianza che le scelte eh devono ovviamente bisogna avere fortuna però eh se una squadra crede in te Teraschi ha giocato una mezza la prima mezza stagione è la titolare la seconda è in serie D anche e poi in serie C eh tra l'altro con mister di Donato eh lui Rosetano eh quindi anche lui ovviamente un una piccola attenzione verso i talenti abruzzesi ce l'ha e anche quest'anno lui ovviamente si è tolto le sue soddisfazioni in serie C questo per confermare anche il fatto che ehm devi avere qualcuno che crede in te eh per quanto riguarda il Delfino ovviamente Teraschi è un prodotto di vivario appunto del Delfino eh ma ci sono tanti tanti altri eh prospetti che ovviamente provengono tutti quanti dal settore del Pescara quindi eh comunque hanno già avuto buone possibilità di sfondare tra mille virgolette nel calcio che conta però sappiamo anche quello che è purtroppo la la fase delicata un po' della della gestione del settore giovanile eh del del Pescara non sto più ovviamente a fare a fare polemiche o altro però ehm c'è c'è un occhio poco attento nelle ultime nelle ultime stagioni eh questo ovviamente ha portato anche una fuoriuscita di quelli che sono i talenti perché io credo che sono diverse eh diversi giocatori come eh Tamboriello che è uno di quelli che mi eh piace di più a centrocampo ma ha lo stesso Cozzi duemilatré e ci sono anche tanti tanti altri eh prospetti che se non sono da professionisti professionismo sicuramente sono da quarta serie quindi eh è un campionato di eccellenza Lorenzo che eh davvero regala molto ai giovani molto spazio lo stesso eh Braghini della Vezzano ma lo stesso anche la Guzzi sempre della eh della capolista sono giocatori che sono pazzeschi quindi usciranno sicuramente alla lunga Damiano l'ha visto mercoledì volevo un parere su su Cutilli del del penne che impressione ti ha fatto Damiano? Eh mi è piaciuto molto a prescindere dal gol si vede che eh e a prescindere anche da dal fisio perché molto spesso il il fuori quota che non ha queste grandi doti fisiche eh gioca spesso non gioca invece in un ruolo come quello ha giocato eh primo tempo da da quinto a destra eh ha fatto il tutta fascia Damiano no? Perché anche in proiezione offensiva ha spinto tanto. Ha ha dato una grossa mano in fase di di non possesso ed è stato decisivo eh in chiave realizzativa con quel gol che poi eh ha riaperto una partita che sembrava chiusa. Sì. Ragazzi io eh vi ringrazio per la vostra presenza abbiamo parlato di quello che è stato di quello che sarà domani ma anche del 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 futuro in questa ultima parte con i tanti eh giovani che giocano in eccellenza e di quelli che ci hanno che ci hanno giocato questa dimostrazione che evidentemente il campionato eh abruzzese prepara no? I tanti talenti a a campionati più più importanti ed è stato un piacere davvero parlarne parlarne con voi mi avete dato anche eh giudizi sulla griglia playoff sulla griglia play out su quella che probabilmente sarà la vincitrice del campionato quindi l'avezzano e e mister Cianfagna non mi ha detto quale squadra ha contattato eh per per il prossimo anno però abbiamo capito che una squadra dieci più squadre di eccellenza abruzzese grazie mister è stato davvero a giugno a giugno ci giocheremo un caffè su questo a giugno ci giocheremo vabbè io sono fino a fino a quando parliamo di caffè io sono magari il mister ci dice una settimana prima quando firmerà così noi possiamo giocare eh il caffè tranquillamente benissimo sono sono d'accordo grazie Damiano è stato davvero davvero un piacere grazie a te grazie Lorenzo dell'invito è stato un vero piacere e un saluto un saluto a tutti grazie grazie ad Antonio Paoluzzi grazie avvocato dove sarai domenica Antonio? Non lo so dico la sincera verità ancora non decido ancora però in ballo cosa c'è? Eh forse Giulianova vorrei andare a vedere la nuova Montesilvano sì beh lì ci sono anche nel Montesilvano insomma è anche nel deciso tra Giulianova Montesilvano e Ponte Romano L'Aquila adesso una delle però se vuoi vedere qualche ragazzo interessante non me ne vogliano gli altri però credo che che Giulianova che Giulianova Montesilvano sia quella sia quella più interessante Federico eh in bocca al lupo insomma speriamo per domani no? Eh sì speriamo di invertire il trend di quest'ultima settimana e stare sul campo. Vabbè ti sei ti sei riposato dai diciamo diciamo che ti sei riposato dai più mentalmente che fisicamente dai ma poi sei giovane hai tempo per recuperare a differenza a differenza mia e di e di Antonio perché tra i giovani metto anche Damiano ovviamente eh quindi insomma Antonio è giovane perché perché è avvocato insomma sorride sempre è lo spirito è giovane lo spirito degli avvocati. Grazie di cuore grazie di cuore ai miei ospiti un grazie di cuore l'ultimo va a voi eh amici telespettatori eh sabato prossimo non andremo in onda perché sarà sabato santo ve lo ricordo campionato che eh slitterà di una giornata eh ma eh sabato santo che si eh giocherà il recupero tra Alba Adriatica e Penne anche quella insomma sarà davvero una partita importante per l'alta classifica per la griglia eh play off e per la griglia eh play out nel primo caso Alba Adriatica nel secondo eh per il eh Penne allora noi ci rivedremo eh il sabato successivo quando ritornerà il campionato di eccellenza nella sua interezza per vivere il turno numero trentadue grazie di cuore naturalmente non cambiate eh canale sempre su rete otto sport canale settantacinque da qualche giorno del digitale terrestre buonanotte a tutti la notte a tutti Grazie a tutti.